bello a tutti e al suoi guaccio per il tot e bentornati in questo nuovo video di FIFA 15 challenge ragazzi siamo ritornati della FIFA 15 challenge cioè alla fine l'obiettivo è uguale no? comunque lo scorso episodio avevo fatto 5 gol a BAMYANG, 2 dittorie e più di 4 gol aspetta si eccolo c'è sta quel coso non ci segnando 4 gol non vale di vantaggio però solo 4 gol te lo fai più in quest'episodio invece ragazzi il mio punto è sempre a fare qualche roba BAMYANG tanti gol tocca a farli 15 e più voglio fare più fancy shot e tutto questo comunque cominciamo subito qua la prima partita di oggi eccola qui la prima partita di oggi contro la Juventus bella ragazzi se qualcuno è da Juventus qua su sto video in sotto la Ju... la Juve fa schifo dai ma è vogliaia come caccio di cuore visto la Juve quanto paga fuori sul gioco fai due fuori sul gioco paga intanto sbaglio vaffanculo tanto che sta bene no no che cazzo stagliattivo vabbè no che cazzata è che cazzo stagliattivo oh oh no non ci chiedo non ci chiedo non ci chiedo e passa pure non ci chiedo non ci chiedo e questo coi quanto donato non ci chiedo 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 Ah, per me, per me, sicuramente per me. C'è un portiere che arriva sotto al set. Avanti la foto, adesso qua sta a te. Arriva sotto al set. Non è un portiere. Non si sa che cazzo è. Schmerz è... Sì. Anche la foto, lo so che guardano. Alloraciamocicici. Ed non... Che cazzo lì vuoi? E' un baraiand... E' un baraiand... vaffanculo va perché la passi a quel medio caci tua dai ma no non vale sto gioco ma sto gioco è poco stioso che a metà sto gioco è più stioso vaffanculo dai ma non vale la pelle in gol così o io dico a quello la più vicina la passa a pomeriggio ma che cazzai ma vaffanculo ma non c'è andato sulla palla che merda c'è no guarda che c***o non si capisce il c***o oh che c***o ha peso oddio sono maniato via sta pal ma perché si lanci da mongoloide ma vaffanculo questo gioco è schifoso quanto l'odio dai ma no ma che posso vaffanculo vaffanculo questo gioco vaffanculo a fifa quindi ragazzi eccoci qua in un'altra partita mo contro Paris Saint Germain perché quando devi mi ha schifato da più un minuto c'è manco perché la gama guarda quello se fermo dai dio oh guarda ma guarda se segno un po' il caputana io meno ma che sta a metà del gioco oh mi so cagato sotto e poi ti dica parte eh guarda che c***o ma che sta a succedere ma guarda che c***o sempre valla verso lui a me mai un c***o mi dà mai una gioia sto gioco mi dà a me dai ma vaffanculo sempre c***o Dio, 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 Sabatina sono più in c***o del vino Bende, 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 Bende da, no vabbè ma quanto sono buggati sta in mente o Vaffanculo, 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 Vaffanculo pensi del mezzo, tutti i bastanti sbagliati e porti a segnare un bene Vaffanculo, mamma mia no no finalmente ce l'ho fatta mamma mia primo tempo sudato mi sono c***o in botta a primo tempo infatti che mettevo qualche parte nel c***o però ce l'ho fatta a segnare proprio 45 ore per buccio per giro perché manolo per faccio vaffanculo attenzione subito Miki Dayane, Miki Dayane, Miki Dayane Miki Dayane, Miki Dayane volevo fare il fancy shot ma è impossibile è partito finalmente no che c***o oh questa è la carica questa è la carica porca p***tana e troviamo che subisco un 2 gol vaffanculo ma fa c***o non è possibile sto gioco non è possibile ci sto muidegando per quanto mi fa c***a sto gioco porca p***tana è gioco del merito cosa che c***o però vediamo se ha dato il gol a Bamo Young tazzo come si fa a vedere comunque vabbè fancy short ce l'avemmo fatta ce l'avemmo fatta un fancy short fatto attenzione no questo è fallo aiuto il cazzo non fischi una cosa per me a lui bella così che culo eccolo no vaffanculo un po dai si vaffanculo vaffanculo finalmente finalmente anche se non è in fancy short però Obama Young fa due golle e poi in fancy short due golle e uno in fancy short aia no vaffanculo ci parto col portiere e vincono e vincono la seconda partita quindi ragazzi faccio un po' dei calcoli e poi ci vediamo a fine video bella quindi dopo alcuni calcoli vi dico subito alcuni calcoli ho fatto due colori con Obama Young un fancy short e una vittoria e quindi ci buttiamo con con otto con otto con Obama Young ci mancano e abbiamo fatto un fancy short un fancy short in cui questo episodio abbiamo fatto tre golle con Obama Young e una vittoria quindi ci buttiamo a tre vittorie a un fancy short e otto golle con Obama Young è davvero perfetto quindi ragazzi spolliciate commentate che ve la foto molto presto se avete spolliciato e scrivete qua sotto i commenti cosa avete pensato di questa serie quindi ragazzi speriamo che questo video vi vi è piaciuto se stavate vi piacevole un bel like commentate qui sotto e iscrivetevi al canale ci vediamo in questo video da CorsShop è tutto bella